Lines Liberty Approvato dai medici dell'associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani. Immaginate che improvvisamente domattina la temperatura scenda in modo incredibile. Il vostro motore non sente freddo con l'olio totale. E adesso? Immaginate che subito dopo il termometro salga in modo pazzesco. Il vostro motore neanche se ne accorge. Buongiorno, visto che tempo matto. Perché? Lubrificanti Total. Protezione assoluta. Total, un pieno di attenzioni. Basta con gli slogan, parliamo di soldi. Oggi c'è nuovo FeedRust. Quando conviene è una polizza vita. Quando conviene è un fondo di investimento. Certo, Rast. Sta per tutto, con i migliori agenti. Sì, è stata una festa magnifica. Grazie anche a voi. A casa vostra si sta così bene. Adesso poi. Avevi ragione, il cotto è proprio un bel pavimento. Come lo vieni tu? Ma non sai com'è facile. È cotto faenza. Niente cira. Non si macchia, si pulisce in un attimo. E poi dà un calore alla casa. Bello da subito a sempre. Il vero cotto faenza è garantito da questo marchio. Cercalo sulle pagine gialle. Non ce la faremo mai. Scherzi, sei sulla nuova Super 5 Flash. Flash? E questo stereo? Di serie. Ce l'hanno fatta, eh? Eccoli qua. Che bella. Chi te l'ha regalata? Io. Con 218.000 lire al mese. Nuova Super 5 Flash. Il bello comincia con Super 5.